Ed è la storia che io racconto di questa ragazza, Amal Salchi, una notizia che ho visto sulla stampa nei giorni dei 150 anni, che raccontava che al Quirinale, in Parlamento, alle festeggiamenti dei 150 anni davanti a Napolitano, a rappresentare la regione Liguria, c'era una ragazza marocchina. Di 13 anni, di terza media. Allora io sono andato a cercare questa ragazza marocchina, sono andato e l'ho trovata, vive a Taggia, provincia d'Imperia. Sono andato a trovarla, lei e la sua famiglia, e questa ragazza, e ho parlato col preside della scuola, col dirigente scolastico, e gli ho detto come mai avete scelto questa? E il dirigente, non un uomo, diciamo così, che voleva fare un gesto politicamente corretto, multiculturale, eccetera, eccetera, dice, no guardi, io dal primo giorno di scuola dico che noi premiamo il merito e l'impegno. Noi abbiamo preso tutti i registri delle classi e abbiamo visto, abbiamo guardato come erano tutti, c'era una sola bambina che aveva tutti i dieci, tranne un nove in arte, e abbiamo detto va questa, senza guardare dove è nata, cosa ha fatto, eccetera, eccetera. Poi dice, è il nostro miglior prodotto, perché ha fatto qui, in questo complesso, ha fatto l'asilo, l'elementare e adesso finisce le medie. Io sono andato a parlare con questa ragazza, questa ragazzina che ha 13 anni e mi ha detto tutto orgogliosa, sa l'anno prossimo andrò al liceo classico a Sanremo, il liceo classico di Calvino, il liceo classico di Dulbecco, e lei dice, io sì, e gli insegnanti dicono la più brava è la più brava, e lei è figlia di una persona immigrata dal Marocco, 30 anni fa, che oggi ha fatto il camionista, ha fatto il muratore, adesso fa il cuoco e il pizzaiolo. E questo padre orgoglioso, prima che lei prendesse voce, dice, ah ma io sono così felice. Pensi, la sera torno a casa, a mezzanotte tutti dormono, e c'è ancora solo la luce del salotto accesa, perché dice mia figlia Amal, abbiamo tre figli, due soli ci stanno nella camera, e quindi lei dorme in salotto sul divano, e vedo sempre la luce accesa, allora sbircio per non disturbarla, e lei è in mezzo a quello che lei chiama il suo mercatino dei libri. Cioè mette tutti i libri intorno sul tappeto e legge, quando ha finito di studiare legge, legge. Nel momento in cui l'ho incontrata, a 13 anni, stava leggendo Muriel Barberi, come si chiama, l'eleganza del riccio. E mi dice, no è bella l'eleganza del riccio, io ho iniziato con i fantasy, ho letto tutto Harry Potter, poi ho letto, non mi ricordo cos'altro, ah sì, il diario di Anna Frank, mi è piaciuto tanto, però a me piace molto la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento inglese, Jane Austen, Ratcliffe, le trovo più valide, e allora io a un certo punto, depurato dai genitori, da tutti gli altri, gli ho detto, perché studi così? E lei mi ha detto, io ho due cose davanti ai miei occhi. Uno, te lo dico con tutto rispetto per mia madre, finire come mia madre, cioè il massimo dell'aspirazione che posso fare è fare la donna di servizio, dice andare a stirare o fare l'abadante. E l'altra fine è quella di fare la fine di mia cugina, che lo zio a un certo punto, tanto studiava, non studiava, stava qua, a 17 anni l'ha riportata in Marocco e l'ha fatta sposare in un matrimonio combinato. Dice io non voglio né un matrimonio combinato, né voglio finire a fare l'abadante, con tutto il rispetto per mia madre, con tutto il rispetto per quelli che lo fanno. E allora ho capito che io ho un'unica possibilità nella mia vita, ed è scommettere su di me, sulle mie possibilità. E l'unica cosa che posso fare è che cos'è? Studiare. E allora studio, studio più che posso e mi piace da morire, lo voglio fare. E allora mi ha detto io, voglio diventare, lei vuole diventare un cardiochirurgo. Mi dice farò medicina e farò il cardiochirurgo. Allora io ho trovato un'energia e una forza. E quando noi diciamo, eh no ma non c'è più niente, c'è solo precarietà e tutto, lei la precarietà la conosce. Io gli ho detto, e la precarietà? Mi dice, beh mio padre è tutta la vita che è precario, ha mai avuto un lavoro definitivo nella sua vita, ha dei contratti, lavora in nero, ha dei contratti di tre mesi. E quindi questa energia, io sono uscito da lì e ho detto che lezione sta ragazzina di 13 anni, che lezione, che fiducia nel futuro. Allora io dico, ma potevo forse dirgli, eh lo so ma guarda la nostra società è declinante, lascia perdere. No, sono uscito e ho pensato che aveva ragione lei. Ci mandano fuori, io vi lascio con una frase che tra l'altro Mario ha messo a mio nome nel libro, ma che appartiene a un mio professore di liceo e che io ho conservato per tutta la vita fino a farne la mia frase preferita. Anche oggi ti sei fregato la Coca-Cola? Sì, nel libro c'è tutta una cosa di cui vi prego di saltare un passaggio. No, perché Grammellini tutte le sere con la scusa di vedere se io ho fatto la lettera. Io c'ho un piccolo frigorifero dove c'è della Coca-Cola che mi vorrei bere, ma che non riesco mai a bere. Perché lui entra e dice, hai già fatto la lettera? E prende la Coca-Cola. No, vorrei che tu lo sapessi. Il libro, scusate. Perché è convinto che la Coca-Cola degli altri non faccia ingrassare. Invece io gli ho spiegato che è uguale. Questo libro è praticamente un libro già datato, infatti nella ristampa, perché io sono a dieta della Coca-Cola esattamente da 5 minuti. Quindi il libro è, ne ho bevuto un sorso adesso, ma sono a dieta da questo momento. Quindi dovrei cambiare il libro, perché non è più così. Ma volevo dirvi questa frase del mio professore di liceo, che riassume in una frase questa bellissima storia che ci ha raccontato Mario, e credo lo spirito del libro. Lui diceva, ricordate ragazzi, i sé sono la patente dei falliti. Nella vita si diventa grandi nonostante. Ed è una frase che vi regaliamo a tutti. Buona serata. Grazie a tutti. Mario, dove firmi le copie? Le copie le firmo lì fuori, così lasciamo la strada libero per chi arriva.